Ciao, sono Adelaide, segretaria nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica. Ciao, sono Lorenzo, vice segretario nazionale del MSAC. Don Michele, assistente nazionale del MSAC. Quest'anno con i circoli MSACchini vivremo nelle scuole dei momenti di approfondimento su tematiche di attualità, tematiche come la Brexit, il diritto alla cittadinanza e la tratta degli esseri umani. E dall'8 al 10 marzo a Monte Silvano vivremo insieme la scuola di formazione per studenti, una scuola dedicata a tutti gli studenti d'Italia per crescere insieme a profondi dei temi di stringente attualità. E con l'iniziativa annuale Swipe Up ci prenderemo cura dei comitati studenteschi per dare senso e significato anche a questi luoghi di partecipazione. E per rimanere sempre informati sull'attività del Movimento, non dimentichiamoci di iscriversi alle due newsletter del MSAC. Ciao, buon anno associativo! Ciao, buon anno!